Marco eccoci qui, fine del corso edizione voce, raccontaci la tua avventura, come è andata? Io con Roberto e Lucia ho fatto molti corsi in questi anni, è stato molto bello perché è legato alla voce, al volume, al tono, al timbro, all'emozione, lo consiglio a tutti, io penso di avere una propensione particolare usando la mia voce, però devo sicuramente migliorare, mi piacerebbe fare anche se ci fosse in futuro anche un corso di secondo livello e magari avvicinarmi anche, non professionalmente chiaramente, ma naturalmente, diciamo proprio a uno studio per conoscere molto di più la mia voce e sfruttarlo molto di più. Poche regolette, se poi uno si diverte, prende un telefonino, un registratore può fare la magia. Assolutamente sì, grazie a tutti, a Roberto e a Lucia, partecipate numerosi. Grazie.